Allora mister, uscite sconfitti qui dal Picardo, una partita che probabilmente era da pareggio, una sconfitta emeritata? Va bene, al di là di quello però, oggi è una partita che dove siamo dovevamo gestirla meglio, sul campo in pratica abbiamo anche condotto spesso il gioco, quindi al di là del risultato bisogna però fare di più per poi fare il risultato, quindi il demerito nostro, il demerito anche della Sestresa che aveva fatto la sua partita, come l'ha impostato. Rispetto alle altre pareti cos'è cambiato? Il Canaletti ha sempre dimostrato di saper fare molto molto bene in trasferta, venivate da quattro vittorie consecutive. Ma no, ma i ragazzi hanno fatto una buona prestazione anche oggi, però per fare il salto di qualità e quindi per far sempre il risultato serve qualche ingrediente in più, l'esperienza ci manca, quindi piano piano la stanno acquisendo, ci vuole tempo. Sì, comunque non è una prestazione da buttare, era da pareggio? Ma sì, sicuramente sì, ma secondo me il pareggio è stato anche stretto per noi, però non vuol dire, serve alcuni ingredienti che bisogna metterli un pochino più insistentemente nella gara per far sempre il risultato, per sbrogliare queste partite, perché poi possono cambiare le partite e andare nelle tue linee, nei tuoi binari, solo se fai alcune cose. Noi non ce le abbiamo ancora al cento per cento, le nostre corde dobbiamo migliorare per avercene. Perfetto, grazie mister.